Per quanto il mio percorso in tanta roba sia stato un po' travagliato, io ho un bellissimo ricordo in realtà, non tanto di quel periodo, ma parlavamo della figura di Guè, io ho un bellissimo ricordo di Guè in quegli anni. Guè è stato molto gentile con me quando ero piccolo, per questo anche che io sono qua, è come cercare di ridargli indietro, sono quelle cose che ti fissi, sei piccolo, io avevo 17 anni quando ho iniziato a orbitare intorno a tanta roba, 18 quando ho firmato, lui mi invitò a casa sua, mi regalò due vestiti, una volta ricordo ancora suonavano con i Dogo al Foro Italico e la mattina dopo o due mattine dopo ci beccammo e mi offrì la colazione, io sono uno che si lega a tutte queste cose qua perché non è dovuto, lui non ci guadagnava niente da me o da Troop d'Elite, non aveva nessun introito da noi, noi non abbiamo generato soldi, non ci è andato talmente male che neanche quello aveva. Quindi ecco, anche quando poi è venuto Ibiza a fare con noi il video di Maria nel 2014, non eravamo già più su artisti, eppure lui lo fece, non lo pagavano, gli abbiamo dato un gettone, e quindi ecco, erano cose non dovute, non siamo amici, io e Guè non siamo amici, lui non ha la confidenza mia per dire Ernie è un mio amico e io non ho la confidenza di Guè da poter dire Guè è un mio amico, quindi sai sono quelle cose proprio perché non sono dovute che valgono molto di più. Al prossimo episodio